Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia perché oggi ci ritroviamo con il Charano. Charano BT che fa il suo ingresso in gioco con la nuova arma LED di Leo che per l'appunto potete vedere nel primo banner. Primo banner che possiede ancora le free multi dato che oggi probabilmente essendo 31 agosto è l'ultimo giorno della campagna quindi abbiamo praticamente la possibilità di poter sculare qualcosa dalla free multi. Il secondo personaggio che ovviamente viene riproposto insieme a Charan è Van che ottiene appunto la sua arma BT+. Arma BT+, con addirittura ovviamente LED all'interno del banner e Arsiela che è il secondo reprint dove appunto nel primo abbiamo il reprint comunque delle LED di Charan visto che comunque il banner fondamentalmente è suo e la nuova LED di Leo che abbiamo la possibilità di poter ottenere. Altro banner che viene riproposto dato che in questo momento si stanno riproponendo diversi banner e c'è anche da dire che tutti questi banner insieme ovviamente che vengono riproposti tutti ovviamente con la BT+, soprattutto Ishtola che abbiamo già avuto modo di recuperare precedentemente dà la possibilità a giocatori comunque di recuperare vecchie BT che altrimenti non avrebbero potuto ottenere. Infatti si stanno mettendo sempre questi banner così con due personaggi precisi in questo caso abbiamo Ishtola e anche Setzer che reputo essere comunque un ottimo banner soprattutto per chi magari ha cominciato da poco e quindi vuole effettivamente spendere qualche risorsa all'interno di questo banner io penso che comunque Ishtola e Setzer siano comunque due personaggi validissimi anche adesso quindi ripeto soprattutto per chi comincia il gioco questo è davvero un buon banner è davvero un buon banner e poi invece gli altri sono praticamente gli stessi che abbiamo già avuto in precedenza. Andiamo subito a farci le nostre free dato che comunque abbiamo le free e io ne approfitto sempre per invitarvi già stasera comunque live sul mio canale Twitch per poter parlare insieme per poter discutere di quelli che saranno i personaggi di Leo, di Ciaran, fare la Lufenia e vedere più nel dettaglio appunto l'evento che lo rende protagonista e parlare anche di tutta quella che è la situazione all'interno del JP e tutto ciò che ovviamente succederà all'interno del gioco. Buono intanto che qua ho preso parecchie power stones e una ex di Setzer che non mi serve completamente a nulla però le altre per me sono tutte power stones e sinceramente parlando schifo non fa. Andiamo avanti con il secondo banner ovvero quello di Van, altra orb dorata che mette un po' di allegria ora sicuramente nel banner di Leo orb azzurra e arrivederci grazie. Mi piacerebbe sculare in realtà l'LD di Leo dalla free anche perché comunque Ciaran non mi interessa non vorrei buttare diciamo risorse all'interno di all'interno di quel banner per cui sarebbe comodo ottenere tutto magari dalla free anche perché mi serve soltanto la mi serve soltanto l'LD quindi mi permetterebbe di risparmiare comunque qualche risorsa ovviamente i ticket volendo li possiamo anche buttare bene orbo dorato anche qui vai speriamo nell'LD di Leo giusto per per non sprecare altre risorse comunque vorrei conservarmi per altri banner e poterlo direttamente usare stasera e vedere effettivamente cosa cambia ai mi ero illuso no ld di Ciaran mannaggia mi stavo illudendo appena ho visto la spada ho detto guarda tutto guarda forse forse va bene e allora a questo punto abbiamo questi 50 ticket quindi direi di tentare la fortuna con i 50 ticket la bd di Ciaran in realtà non mi ha detto tantissimo ero molto più convinto di vedere un Ciaran bello bello aggressivo dato che comunque lui possiede delle aure ottime è anche è vero che non ho ancora approfondito è vero che ancora non ho approfondito e letto bene tutto e niente tutto quello che ovviamente riesce a dare Ciaran con la sua bd sicuramente darà delle ottime aure dato che il suo stack di buff gli consente di essere veramente un ottimo buffer per il party quindi sono sicuro che le aure bd combaciate con quelle che lui possedeva diciamo di base lo renderanno un ottimo personaggio però effettivamente alcuni difetti che comunque possedeva prima sono rimasti e non sono cambiati come per esempio la ex comunque si è stata un po' modificata è stata resa un pelino meglio però rispetto a come me l'immaginavo io rispetto a come la volevo fondamentalmente io non è così eccezionale ecco quindi ancora Leo con la 35 che mi fa spaventare maledetto mentre invece Leo sembra essere interessante ha una buona ld sinceramente gli effetti della ld sono interessanti bisognerà vedere uh altra orbo dorata vediamo bisognerà vedere se eh niente bisognerà vedere se effettivamente l'ld di Leo potrà essere sfruttata a modo perché ha delle condizioni di attivazione per quanto riguarda comunque la sua meccanica un po' un po' particolari perché se il boss deve essere single target per sfruttare appunto diciamo i molteplici attacchi di follow up che può avere che può avere Leo un pochettino un pochettino mi fa storcere il naso perché è difficile comunque all'interno del gioco avere a che fare con boss single target è vero che magari in questo periodo approfitteranno e metteranno magari qualche boss single target che spawna Minion in modo tale da farti brillare tra virgolette un pochettino Leo ma è anche vero che solitamente le lufeni di base o comunque in generale le quest di base possiedono due boss che bisogna affrontare contemporaneamente quindi avere un ld come quella di Leo che si concentra su single target non è una soluzione diciamo non è una soluzione rapida a quello che potrebbe essere il il gameplay o comunque la strategia di gioco per affrontare appunto le varie lufeni o in generale se dovessero arrivare le nuove difficoltà e quindi diciamo sono un pochettino un pochettino combattuto e diciamo che mi piace l'effetto mi piace appunto l'effetto dell'ld di Leo ma al tempo stesso sono un po' spaventato perché non so se effettivamente possa valerne la pena è un ld che comunque è ottimo nel senso i danni anche dal trailer stesso abbiamo visto abbiamo visto tanti danni abbiamo visto la capacità di poter effettivamente fare dei bei numeri però bisogna vedere se questi bei numeri possono essere costanti o se sono soltanto dati dal caso o dati da determinate condizioni perché se così fosse purtroppo Leo uh altra orbo dorata diventerebbe un po' un problema dai un altro ld di Charan ecco lo sapevo io che Charan mi mi sta dicendo qualcosa Charan mi sta dicendo assolutamente qualcosa ma io non voglio parlare con Charan oggi vorrei parlare un po' con Leo vedo che è stato trascurato per un bel pezzo all'interno del gioco quindi mi piacerebbe avere la possibilità di parlare con Leo allora ultimi dieci ticket che ce li facciamo tutti insieme oh un orbo dorata bene mi piace quando parte l'orbo dorata una bella sensazione devo essere sincero cioè mi fa ben sperare poi mi illude perché mi droppa mi droppa la ex o ld che ho già però almeno la bella sensazione ecco ovviamente la bella sensazione di avere un ex che già avevo sono indeciso perché potrei buttarne un altro paio di ticket in realtà potrei buttarne alla fine altri 200 forse un'altra cinquantina un'altra cinquantina volendo possiamo anche buttarli vediamo un po' ci fermiamo a 150 direi che si può fare anche perché cioè il banner in realtà non mi sembra abbastanza chiuso visto che comunque ho preso diverse orbe dorate quindi un pochettino mi sta illudendo mi sta illudendo del fatto che comunque posso effettivamente trovare qualcosa e io probabilmente ci sto cascando ma ecco e io probabilmente ci sto letteralmente cascando con tutti i piedi dato che mi sta letteralmente smollando charan che è quello che mi interessa meno questa è una cosa che in realtà non ho mai veramente non ho mai capito ovvero il fatto che praticamente il fatto che ogni volta che ci siano due ld e quindi tu dovresti avere un 50 e 50 di possibilità di trovare comunque due ld o comunque ex io trovi sempre quella che giovi questa è una cosa che comunque un pochettino ti fa riflettere anche sul come funziona il sistema di gacha gaming ovvero che ti spingano un pochettino a diciamo giocare no? un po' come il gioco d'azzardo se vogliamo dirlo che ti illudono di poter fare una roba e poi niente 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 leo purtroppo non vuole uscire va bene se avremo modo di prendere altri ticket questa sera sicuramente avremo modo di buttarli non so se ne butterò qualcun altro off camera così giusto per tentare lo sculo dell'off camera che a volte mi ha graziato a volte mi ha premiato però per il momento mi fermo qua detto questo io vi ringrazio per essere stati con me vi aspetto questa sera ovviamente live su twitch per approfondire più il discorso di charan di leo di arsiela che sono stati tutti reworkati anche di van soprattutto che è stato reworkato ed è stato reso molto 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 interessante quindi avremo modo di poterlo provare di poterlo testare e vedere che cosa ci permetterà di fare adesso detto ciò vi ringrazio vi auguro ovviamente buona fortuna con i pool e io vi aspetto ovviamente questa sera su twitch sempre a partire dalle ore 21 fino ovviamente a fine serata detto questo ci becchiamo stasera bye bye